Oggi abbiamo anche un bel po' di ragazzi giovanissimi qui e i loro insegnanti che sono venuti a trovarci nell'ambito di un progetto di comunicazione che coinvolge questa scuola e devo dire sinceramente è una cosa molto bella, l'Istituto Bottardi sta lavorando su questi giovani, ma sarebbe interessante che molti istituti lo facessero, perché avviare i giovani alla comunicazione, al giornalismo è una cosa importante, l'importante però è cercare di capire se questo avvio avviene in modo corretto oppure se invece è indirizzato da parte di… per esempio Monica, vieni qui, senti, vieni Monica, Monica è l'insegnante, è l'insegnante Monica Russo, allora questi ragazzi vanno verso un futuro di comunicazione, molti di loro magari diventeranno dei giornalisti importanti, ecco ma noi vogliamo sapere come si informano, facciamo venire magari qualcuno di loro qui vicino a noi che sono… Anche Martina, ecco Sara, Martina, venite qua, Sara e Martina, adesso poi qui abbiamo maestri ovviamente facciamo un po' di domande, voi le fate a loro e viceversa, ecco, allora Sara, come vi informate voi? Allora diciamo noi tramite social… Sì, metti bene, ecco così, perfetto, microfono, bravo, tramite social, internet, queste piattaforme qui. Ecco, che cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete dei punti di riferimento, dei siti di riferimento che voi sapete che sono attendibili? Attendibili no. No, e quindi come facciamo? Vedi, vedi che c'è, vedi, dimmi. Beh, cerchiamo diciamo il social migliore che rispecchia più la realtà dei fatti. Ok. E quale sarebbe? Quale sarebbe, ci chiede Vanni. Beh, io personalmente penso sempre più alla mia opinione, cioè nel senso in base a quello che penso io e prendo diciamo i dati. Cioè voi girate, cercate tramite i social di farvi un'idea e di capire quali sono le informazioni giuste. Esatto. Quali sono le informazioni giuste, ma ritenete di avere questa possibilità? Alessandro, tu che sei un po' esperto in questi meccanismi psicologici, ecco, loro cosa dovrebbero fare? Perché ci dicono dai social noi prendiamo un po' di informazioni e poi cerchiamo di elaborare in base a quello che pensiamo. Allora, è inevitabile che ci sia un sistema di attrazione psicologica che ci tende a fare selezionare le opinioni che condividiamo. Questo è un meccanismo, direi, di omologazione della mente umana che è legato al fatto che la nostra specie è una specie gregaria, è una specie di branco. E quindi, come avrebbe detto il poeta spagnolo, donde va Vicente, donde va la Chente. Vado dove va il resto della gente. Quindi è anche normale che ognuno tenda ad aggregarsi all'interno del suo branco. Però attenzione, perché c'è anche un altro meccanismo di cui la mente o il creatore ci ha dotato, che è il meccanismo della logica. E' quello per il quale ci sono delle verità che noi possiamo percepire perché le sperimentiamo direttamente. Ci sono delle altre verità che noi possiamo percepire anche se non le percepiamo direttamente come il fatto che la terra rotonda non è piatta. Su questa battuta del terrapiattismo ci sono fatte un sacco di chiacchiere. La logica è quella per la quale A è uguale ad A, B è uguale a B, A è diverso da B e C probabilmente è ancora diverso da A e da B. E questo meccanismo della logica è un meccanismo formidabile. E' quello che andrebbe fatto sviluppare nei ragazzi. Perché la propaganda si serve innanzitutto di sillogismi cornuti o di sofismi. Per esempio, se io dico il prosciutto fa bere, il bere toglie la sete e quindi il prosciutto toglie la sete. Evidentemente è un presupposto logico del tutto falso, evidentemente. Perché la premessa mayor e la premessa minor, come dire, sono tra di loro sfasate, appartengono a sistemi diversi. Quindi io dico ai ragazzi che devono sviluppare la logica. Poi naturalmente le fonti devono essere plurime, sia su internet che sulle fonti anche del mainstream. Perché guardate che leggendo attentamente il mainstream, cioè leggendo le fonti dell'avversario, per esempio si possono smascherare facilmente i loro trucchi. Il mainstream sta raccontando in questi giorni che grazie ai vaccini si sono risparmiati 150.000 morti. Se poi voi guardate quali sono gli elementi logici con i quali questa teoria è stata costruita, vedete che sono totalmente fallaci, anche confrontandoli con i loro dati. Il vero problema è che la gente nelle prime fasi è stata portata in una condizione drammatica, senza terapie, con la tachiperina e la vigilantesa, laddove oggi quando il Presidente del Consiglio ha questo raffreddore gli dicono di prendere subito anti-infiammatori, cortisone e un antibiotico che è la terapia giusta. Però la diciamo due anni e mezzo dopo sotto lo schiaffo della realtà. E quindi Alessandro, ti stai bagnando, mi sto bagnando, sto dicendo di chiudere il finestrino. Quindi tu dici, allora, è accaduta una cosa, no? Accade che oggi ci sono meno decessi rispetto a prima per questa malattia. E quindi il mainstream ci dice, beh, è il vaccino che ce lo fa. È il vaccino, è il vaccino che ha salvato l'idea. Però noi dobbiamo elaborarla questa informazione e elaborando l'informazione ci accorgiamo, primo, che oggi finalmente le cure ci sono e vengono poste in essere. Secondo, anche la stessa malattia... Ma parliamo di cure banali. Banali, è meno dannosa, quindi è probabile che quella sia un'informazione falsa. Cioè ci siamo curati con cure che complessivamente costavano, non so, 20 euro in tutto. Perché due aspirine al giorno o un antinfiammatorio, una pastiglia di Zitromax, una di Delta Cortene 25 al mattino e se uno sta veramente tanto male, una punturina di eparina, complessivamente faranno 30 euro. Voi capite che questo non era tollerabile. Cioè curare in maniera semplice un raffreddore non era tollerabile, non era un business. Poi soprattutto non ci sarebbero stati i risultati sociologici di questa cosa. Cioè se noi pensiamo... Però oggi questa cosa... Oggi i medici di Ippocrati hanno denunciato Bassetti che quando questa terapia domiciliare banale, banalissima, che avrebbe fatto qualunque medico condotto di 20 anni fa, veniva praticata, Bassetti diceva che questi sono delle fattucchiere. Ma come delle fattucchiere? Perché minimo bisogna usare dei farmaci antivirali che costino al minimo, al minimo, al minimo 200 euro a confezione. Minimo. Non parlare della campagna vaccinale che deve vaccinare 8 miliardi di uomini.